... Madonna, mi ha fatto venire un colpo e ti stavo a sparare... ...è mancato tanto... Aspetta, aspetta, aspetta... ... ... ... ... ... Eh, quanto sono pirla, guarda me. Guarda mamma, sono un pirla! L'evento cambia. E' il mio evento che cambia nella forma e nel colore. E' in traslumentazione. Qui ti imbocca la torretta che ti fa bene. Anche comunque meglio imbocca che da un'altra parte. Chissà perché sono morto! Che strano! Perché siamo tre nelle quad? Ah, siamo in quattro col cane, dai. Sicuramente gioca meglio degli altri tre, mi sa. Anzi... ...pacciolandia. Oh, abbiamo fondato Pacciolandia. Lo sapremo solo streammando. Lo sapremo solo streammando. Non soppare via? Oh, oh, oh! Oh, oh! Eh? Tutto mi ha tolto! Il cavallo, il letto, il... Tutto mi ha tolto! Serve un accendino! Questa è il mitragliatore, questo? Questa sta dalle testate al muro. Perché sono in questo gioco? Potevo essere il PNG di qualsiasi altro gioco. Perché sono in questo gioco? Beh, preferisco i sopravvissuti o i sottovissuti. Ho sentito qualcosa di grosso. Ancora, scusarci. Smetto di toccarti col pisello. Che ti ridi te? Che lo sa che è vero. Perché sa che è grosso. Oh, su! Viacce, viacce! No, è passato dietro. Lo voglio. Sì! Sì! No, ma nel garaio non entro a me. E lì c'è un altro. No, purtroppo c'hanno questa limitata... È un po' limitato. Oh, me sta volando il cadavere! Sta volando in cielo! Il cadavere sta volando in cielo! Guarda la mia live! Guarda la mia live! Però sinceramente qui non ci passerei le stesse ore che ci passo lì. Questo tra l'altro ha il bunker lunghissimo. Ma il bunker non ci dobbiamo entrare. Ma anche il mio penne è lunghissimo. Hai problemi con le cose lunghissime? Si produce, si fatica... Per i soldi e per la... Speranza. Venite dove sto io prima che c'è roba. Ho trovato tre medikit medi. Ah, sì, dammi la roba! Dammi la roba! Questo me compra l'ascia. E io invece di lasciare il raddoppio... Lascia il raddoppio! Lascia il raddoppio! Non vedevo l'ora di far sta battuta! Lascia il raddoppio! Ahahahahahahahahahahahahahah Ma allora! E se non mi dovete per forza seguire tutto il cazzo di tempo. Trovatevi una fidanzare! Non lo sai qual'è? E' il git gud. Perché la gente se tu... Se vedi che tu ti lamenti per una difficoltà nel game. Dici... Ah questo ho capisco un cazzo. Io come lo faccio con un dito nel culo. L'altro nell'orecchio usando il mouse con la bocca. Questo non è capace da una minchia e la gente se ne va. Capisco... Guarda la... quel libro lì secondo te è buono? me lo consigli? sì no che mi rispondi? sì tu sto chiedendo a lui che mi rispondi? sì mi faccio il mazzo così perché se lui c'ha il mostro che ti mangia il culo e ti fa uscire tre braccia che però ti schiaffeggiano a te stesso allora poi io uso la carta che ti mangia le mani e quindi invece di schiaffeggiarmi mi faccio aria quindi il mio personaggio non si accalda e ha più due allo starnutire il raggio di starnuto per mischiare le malattie agli altri e io mi rompo i coglioni che bolle statevi fermi statevi fermi economia di energia il presidente Dolores De Panza è stato letto con una è un miracolo è un miracolo è un miracolo tra l'alla il cat power grande giove non so capace l'arcomostriciattoli oggi è mezzanotte l'ora l'ho già badito 12 ritocchi per i nostri bandito non ci posso credere invece l'ho fatto e invece l'ho fatto ciao